Ciao ragazzi, io sono Bremby e oggi voglio fare un video velocissimo, giusto per dirvi che è arrivato quel momento della Lega in cui si rirolla il Sion, finalmente sono gasatissimo e io quindi tra poco, non lo so, tra un'oretta o due, forse anche meno, comincerò a fare la campagna da zero col Sion e visto che non so ancora che build fare, perché non lo so, sono indeciso tra un po' di build, continuo a cambiare idea, poi guardo i forum e non mi piace non so solamente cosa fare, quindi non ho in mente una progressione per la build e allora ho deciso di fare almeno fino a livello 90, forse addirittura 95 tutto nelle Blighted Maps, così anche per voi se vi trovate bloccati nella campagna e non sapete dove andare o se vi trovate bloccati nella progressione, che è più facile come cosa, siete alle mappe e la vostra build non vi tiene potete vedere come faccio io con la mia strategia che è totalmente indipendente dalla build e che vi porta tranquillamente a fare le T16 in fretta, Blighted Maps, e a fare abbastanza soldi per poi comprarvi i pezzi che vi servono nel frattempo io posso anche decidere che build fare, spero, perché se arrivo al 90 e non so ancora che build fare è un casino e vediamo, dai vediamo raga se vi interessa la cosa mi trovate su Twitch oggi e niente, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace se avete domande su qualsiasi cosa mettetene nei commenti che io rispondo sempre se volete supportarmi il link a cofai è qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video o su Twitch ciao ciao